È un racconto frutto della fantasia dell'autore che poi sono io, ovviamente ecco la fantasia la lascio alla prosa, non ai numeri del comune, però è anche un modo per distendersi e per rilassarsi in alcuni momenti. La storia è abbastanza semplice, però ha un suo profondo significato, perché la storia descrive il racconto di un uomo nel 1963 che era un parlamentare regino, prima con l'uomo qualunque, poi con un altro partito di massa e che viene trombato a quelle elezioni. Viene trombato, ritorna nella città, si era trasferito a Roma, ritorna nella città e conosce questo giovane Paolino che era un ragazzo di una famiglia semplice di coloni, siamo nell'epoca in cui c'era molto latifondo anche in Calabria e c'era molto sfruttamento, lo sfruttamento dei coloni. Non c'erano rapporti chiari tra il latifondista e chi poi realmente coltivava. I rapporti non erano chiari, c'erano le prime lotte sindacali, un po' mutuate dal portella della ginestra, quindi si diffondevano, e però i latifondisti controllavano i coloni attraverso quelle persone che io nel libro chiamo i notabili, ma voi capite sono gli antenati dell'andrangheta per intenderci. Perché poi anche nel libro si racconta questa evoluzione, questo passaggio da latifondisti a speculatori edilizi e il salto di qualità dei notabili, quindi dei guardiani, dei giardini che diventano dranghetisti.